Per i suoi 70 anni Giuseppe Leone conosciuto da tutti come Pino e ciclista in pensione ha voluto sfidare se stesso cimentandosi in un evericing. Di che cosa si tratta? Si tratta di scegliersi una salita, verificare che sia presente un segmento che ne rilevi il dislivello e percorrerla tante volte su e giù fino a raggiungere un totale di almeno 8.848 metri ovvero l'altitudine del monte Everest. Tutto questo per un giorno intero senza mai fermarsi né dormire. L'idea è di circa un anno fa in tempi di lockdown quando pensavo che sarei arrivato quest'anno a 70 e mi sono detto bisognerà che inventi qualcosa per i miei 70 anni, che mi regali qualcosa. Cosa di meglio di qualcosa di sportivo, di un'idea sportiva. Già l'evericing era una cosa che già invaleva da qualche anno, però di persone di una certa età ce ne erano poche, io ne conosco una sola a dire il vero. Giuseppe si è avvicinato al mondo del ciclismo 25 anni fa all'età di 45 anni, ha preso parte a numerose gran fondo, praticato tanto cicloturismo e partecipato alla famosa randonnée di Parigi. Pino questa volta si è voluto sfidare personalmente e per questo ha scelto il monte delle Cesane, partendo da Isola del Piano arrivando fino al Biglio per Urbino. Sabato scorso Leone è stato accompagnato dagli amici e anche dai colleghi della società ciclistica fanese e alla partenza c'eravamo anche noi di Fano TV scortati dal nostro autista Leonardo. Una salita di 7,3 km di lunghezza, 413 metri di dislivello e dovevo percorrerla come poi l'ho percorsa per 22 volte. Già il numero fa capire quale possa essere la difficoltà. Io ci ho messo in totale, fra soste e pedalata, 29 ore, di cui 21 e mezzo pedalate. Le splendide colline e le campagne del nostro territorio hanno reso piacevole a Pino la sfida, ma meno durante le ore notturne. Beh, le ore notturne hanno presentato i maggiori problemi, in particolare due, il freddo e una foratura. Ed è stata non particolarmente dura, devo dire. Ne sono uscito abbastanza tranquillo, tant'è che finita la domenica sera, il martedì sono andato in bicicletta tranquillamente, senza problemi. E' ripartito per l'ultima tornata. Grande Pino, ci aspettiamo in fondo. Intanto Giuseppe, soddisfatto del suo percorso e della riuscita di questa sfida, pensa già al suo prossimo obiettivo, lanciando un messaggio. Due sono i messaggi. Uno è che a una certa età bisogna continuare a pensare, a fare, a cercare di proporsi cose nuove da fare, perché queste ci tengono in vita, cioè ci consentono di rimanere attivi, in quanto abbiamo dei progetti da realizzare. Il secondo messaggio è lo sport aiuta, anche in età avanzata, combinato con un'alimentazione sana. E' una vita, diciamo, senza grandi eccessi, ma non per questo, una vita normale, diciamo. A poter andare avanti con una qualità di vita, anche negli anni in età avanzata, molto buona. Al prossimo episodio Grazie a tutti.